La bella stagione ormai alle porte, tra sole e poche settimane si avvicinerà alla tanto temuta prova costume. Da anni la tecnologia viene incontro alla bellezza e in un'evoluzione continua. Solida esperienza professionale e innovazione, questo è il concetto vincente del centro Lilium Benessere di Igella. È stato presentato T-Shock Laser, un prodotto di ultima generazione, frutto di tecnologia avanzata che consente di effettuare un trattamento nel massimo comfort, finalizzato al rimodellamento corporeo. Oggi alla Lilium Benessere si presenta una nuova tecnologia nel campo dell'estetica. È una rivoluzione nel settore, è la cosiddetta T-Shock Laser. È un'apparecchiatura all'avanguardia che serve per ridurre in maniera localizzata il grasso e la cellulite senza assolutamente far fatica, quindi in completo relax. Come avete potuto vedere si tratta di un'apparecchiatura assolutamente nuova. È in grado di affrontare quegli inestetismi che non si risolvono in altro modo. E tra l'altro riusciamo contemporaneamente a trattare varie zone, sia per gli uomini che per le donne, anche le zone che difficilmente si possono trattare, tipo le braccia, comunque l'addome, il doppio mento e le zone cosiddette più difficili. Quindi con questa metodologia si può affrontare nel migliore dei modi qualsiasi inestetismo che fino adesso magari non si poteva affrontare, soprattutto in completo relax, che questa è una cosa sicuramente non da poco.